Per la settimana della lettura Gallarate, appena cominciata, si parla di coraggio e di lotta ai pregiudizi nell'incontro con l'autrice del romanzo Il diritto di sognare, edito da Mondadori. Qual è il messaggio che oggi porta agli studenti della primaria dei Amici Sa Gallarate? Sicuramente è un messaggio di inclusione, già il testo in sé è un libro inclusivo perché, come vedete, è inserito nel progetto di alta leggibilità di Mondadori, quindi una pagina non giustificata con dei caratteri decisamente più grandi e le illustrazioni che accompagnano proprio alla lettura di Ilaria Zanellato. Racconto la storia di Claudette Colvin durante la segregazione razziale in America che non ha ceduto il posto sull'autobus a una donna bianca nove mesi prima di Rosa Parks e, come vedete dalla copertina, la storia di Beatrice, che è una ragazzina di Milano che scoprirà la storia di Claudette e lei, che vuole essere sempre la prima, un po' in fissa con le classifiche, inevitabilmente farà pace con medaglie, podio e tutto quanto riguarda appunto la competizione. Questo è un po' il messaggio che vorrei dare agli studenti, che insomma a volte non serve una medaglia per fare delle cose importanti.